Il lavoro dell'Open Day è basato su quello che abbiamo fatto in classe in letteratura di greco, ovvero abbiamo tradotto l'Iliade e abbiamo lavorato sulla metrica appunto. Nella nostra mostra ci sono dei ragazzi che recitano e appunto fanno dei ragazzi che vogliono farsi raccontare qualcosa dal cantore. E si vede appunto la metrica in greco e la letteratura dell'Iliade. Bisogna però chiedere ispirazione alla musa, solo lei sa quello che è successo. Merina e Dezea, pleia d'Achileos. Non così, ci vuole un po' di ritmo, di farmi sentire bene anche la scossilla del greco e lunghe. E appunto è una parte in greco per far capire alle persone che vengono a vederci come ci comportiamo in classe, di cosa parliamo, però anche in italiano per aiutare a capire di cosa stiamo parlando. Noi volevamo fare una mostra originale, fare immedesimare colui che viene a vederci nel momento che viene raccontato della storia raccontata da Omera di Iliade. Noi volevamo fare una scossilla raccontata da Omera di Iliade.